Buongiorno ragazzi direttamente da Usobiker Oggi vi presentiamo velocemente l'ultima arrivata qui in sede da noi qui all'House of Biker La mitica Aprilia RS 125 replica modello GS Allora l'esemplare che è arrivato qui in sede da noi è un modello restaurato completamente Attenzione non è un modello Reggiani replica originale ma bensì un modello replicato completamente Quindi il modello GS extrema diciamola così anno 1994 la sua prima immatricolazione Restaurato completamente nella livrea Loris Reggiani Livrea molto molto rara fatta fedelmente veramente molto molto bella E modello perfettamente funzionante come la potete sentire Allora la moto ha 22.677 km Moto perfettamente funzionante addirittura guardate che ha addirittura il portachiavi storico Tanta tanta roba La moto è veramente tenuta in maniera molto maniacale Qualche piccola imperfezione nel restauro estetico Qui proprio qualche piccola sbavatura che si può vedere Ma niente di che Proprio sapete che nel fare i restauri a volte qualche imperfezione può succedere Però niente di che Si vede qualche punto di vetustra del tempo nella parte qua del terraio Qualcosina qua Poi abbiamo anche qui nella parte della verniciatura delle pinze Magari un attimo fatte un pochettino un po' così Non proprio perfettissimo ma siamo proprio molto pignoli Come anche qua che si vede anche qui questa parte leggermente rovinata Del resto la moto è veramente spettacolare 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 Bellissima Sentiamo anche come canta I modelli full power di quegli anni sono le più belle Questa è motorizzata col motore Rotax 123 Quindi carburatore a 34 Cambia 6 marce Raffreddamento a liquido Bellissima Sono tra quelle moto le più famose Che comunque superano i 170 km orari Cioè roba da pazzi Perché comunque se pensiamo che in quegli anni e 16 anni avevi un missile del genere Veramente tanta roba Allora ragazzi la moto è già disponibile qui all'House of Biker in sede Vi invitiamo a tutti di venirla a vedere E in descrizione link del sito con tutte le informazioni e dettagli del caso Ragazzi un saluto direttamente dall'House of Biker Vi aspettiamo a tutti Ciao Ciao Ciao